Buonasera, rientriamo a un studio, abbiamo i nostri due ospiti, Davide Brunello e Sabrina Benvenuto, che ci hanno aiutato e ci hanno già fatto alcune rivelazioni importantissime, circa le loro due professioni, chiamiamole pure, importanti. Però Davide, ti mettiamo un po' sotto il torchio, ma non è sempre sotto il torchio, parliamo, hai vinto un traguardo prestigioso, Nike Premier Cup, hai vinto contro squadre, possiamo fare anche i nomi, se vogliamo, che investono tantissimo, giustamente, magari nei settori giovanili, e tu invece hai vinto con il pane fatto in casa, il pane fatto dal fornaio artigianalmente in casa, il pane di casa ha vinto contro il pane magari un pochino più artefatto, ha fatto con altre tecniche di lavorazione, ma mi pare che il pane di casa funzioni meglio. Io per conto mio ho una soddisfazione enorme questa, che se fossi io, proprio toccare il cielo con un dito. E quindi questo, parlaceno un po' e dice un po' tutto quello che ti senti di dire, lasciati un po' andare liberamente, rivelasci qualcosa che magari noi non sappiamo. Tanto che si può fare, questo è un messaggio straordinario, si può fare. Certo. Quindi questo è un bel messaggio lanciato in qualsiasi luogo, quindi dedicare le risorse che non sono solo economiche, ne abbiamo parlato prima, ma sono umane, di competenze, di conoscenze, di amore, si può fare, e sul territorio ligure, come lo fanno magari su altri territori. Per esempio io sono stato a visitare la cantera del Barcellona, fino a una certa età mi dirai il bacino d'utenza di Barcellona è bello grosso, però sono tutti ragazzi di Barcellona, è grossissimo per l'amore di Dio, cioè è un macro esempio, però il concetto è quello, e non li vanno a cercare fuori fino a una certa età, poi dopo faranno commercio. E qua noi abbiamo dimostrato, come Genova, che si può fare sul territorio, ma la maggior parte sono di Genova, di Savona, e quindi si può fare. Ecco lì mi tocca una corda che è quella, che il settore giovanile non è dei giovanissimi in su, ma è dai giovanissimi in giù, e con questo risultato l'abbiamo dimostrato. Sono d'accordo. Perché è lì che si mettono i semini, che poi in qualche maniera creano le condizioni per tirare fuori delle belle soddisfazioni come ci siano le vanni. Poi è un evento particolare, perché le componenti sono state tante, però non bisogna nasconderci che dietro c'è un lavoro incredibile, fatto dalla società. E quindi è una grande soddisfazione, sicuramente, personale, ma soprattutto da parte della società. si può fare. Penso che quello sia il messaggio straordinario da accogliere. È un bel messaggio, credimi, è un gran bel messaggio. Ugo, te lo dico anche come Presidente dell'Aiac, che si spinga su questo fattore. Il settore giovanile è dei giovanissimi in giù, perché poi arrivati a una certa età diventa dura allevare delle cose che si sono consolidate, a livello mentale e tecnico. Quindi ti ho risposto? Assolutamente sì, mi hai dato una conferma a quello che penso, a cosa mi hai pensato, che è lì che il prodotto si inizia lì, poi dopo è finito, ma si prende finito. Concedimi anche questa. Come no? L'obiettivo non è vincere. Certo, bravissimo. Bisogna che tanti sentissero bene questa. Sì, ho capito. Ridilo un po' di nuovo. L'obiettivo non è vincere. Bene. L'obiettivo è anche vincere, perché vincere ci deve stare, ma ci deve stare dopo. Però sui campi si vedono altre cose, perché poi parliamo tecnicamente che bisogna fare un certo tipo di calcio, che bisogna avere un certo tipo di assaggiamento, però poi alla fine con la scimitara ci escono tutti. Certo, però vedi, questi risultati tipo il tuo devono essere di esempio, possono essere di esempio, possono essere citati ad esempio, perché è successo, quindi quando vai a dire al genere è successo questo con la storia di Brunello, è vero, non sono discorsi, è molto importante, perché poi la gente può assimilare. Poi purtroppo, come dici tu, ci sono degli esempi di gente che vuole solo vincere e non bada assolutamente a come vincere, ecco, hai ragione perfettamente, però è importante che ci siano poi un'impresa come la tua, chiaramente a grande risonanza. Ora poi, andrete all'Oltraffor, no? Mi pare, nel mitico campo del Manchester, chissà che emozioni, se vorrei essere anch'io, ti dico la verità. E perché no, scusa? E ora, quando andate d'agosto? Andiamo a luglio. A luglio. Da metà luglio, penso una settimana. Che periodo esatto? Lo sapete esatto? Non te lo so dire di preciso. Neanche mi sai dire, scusate, come funziona il meccanismo delle finali, quante squadre sarete? Io credo che ci siano una ventina di squadre, se non erro. Tutto il mondo. Tutto il mondo. È un mondialito. Per bacco. È incredibile, ci sono delle squadre che vai a giocare, che ne so, con il River Plate, anziché contro il Santos, non lo so chi si sia classificato di là. Quindi è uno spettacolo. Bellissimo. Un'esperienza, l'ho già detto, mi ha colpito quello che ci ha detto a me, ha sbravato un grosso dirigente di questa manifestazione, che l'importante, fondamentalmente, è che varie parti del mondo siano là. Cioè lo spirito deve essere questo. E poi ovvio che si va là per fare il meglio di quello che si può fare. Però bello questo tipo di... Tanto sia là. Eh, infatti. Tanto sia là. Bene. E ora ti faccio una domanda qui. Così che improvviso io. Come ti senti? Come ti senti così adesso? In questo periodo cosa provi? Perché so quando si vince ci si... Si gode della vittoria, no? Si dice approfittiamo di questo momento e ci si sente... Almeno, io, quelle poche vittorie che ho fatto nella mia carriera, però quando siamo arrivati a tanti obiettivi più che vittorie, no? Ottenuti, ci si sente toccare il cielo con un dito. Almeno io, non so, dimmi un po' le tue sensazioni attuali. No, ma... Adesso che... Sì, è una domanda più che lecita. Ma magari è banale, ma... No, 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 anzi, anzi, anzi. Me l'hanno già fatta, nel senso che è vero. Ti dico questo, quando ci si innamora la prima volta è una botta incredibile. Quando si ha 52 anni le si vede con un pochettino più di lungimiranza, di equilibrio, sapendo che quando arrivi in cima se ti guardi di sotto rischi di cadere. Ti dico questo, alla serata in cui siamo ritornati, alle 4 di notte ero da puppo perché non sono riuscito ad andare a casa che siamo ritrati tardi, a rivedermi i filmati e segnarmi le cose che dovevo fare. Perché era come una sorta di... Tanto vissuta veramente con serenità, no? Gioivo a vedere la gioia nei ragazzi e però anche una sorta di responsabilità poi a dover continuare a migliorare questi ragazzi e migliorare assieme a loro. Ma la sono vissuta così, ma la sto vivendo in questo senso qua. L'immagino ben conoscendoti, sei molto meticoloso, preciso e curi tutti i particolari. Ti conosco per quelli che conosco, per la tua perfezione quasi svizzera, direi, nell'organizzare. E beh, insomma, i risultati... Ugo, non mi conosci poi così tanto bene. Beh, no. Dimmi perché. Dimmi perché allora. No, perché non sono una persona così meticolosa, così metodica. Aspetta. Altre sì, uno che alle 4 di notte si alza, si va a vedere i video, è perché c'ha quell'ardore dentro, quella... Diciamo che tendenzialmente non sono una persona così meticolosa. Anche nel preparare gli allenamenti vado un po' di sensazioni. Diciamo, dopo tanti anni sono un pochettino un animale da gara, cioè nel senso che sento delle sensazioni e in qualche maniera poi ci si lavora sopra, no? Beh, certo, sarai cresciuto nel tempo come tutti, credo. A mio modo sono metodico, mettiamola così, dai. Beh, pochino dai, senti metti, avete riveduto la partita giustamente giustamente, vuol dire che... Ma questo lo dico a tuo onore, mica a tuo... No, ma infatti è un mio limite. Non pregio, eh? No, perché... No, è un mio limite nel pensare che una persona che in qualche maniera sia disciplinata, ordinata e metodica la vedo come una forma di rigidità e allora io mi distanzio un pochettino. Non lo sei affatto, ti conosco, no, no, sei tutto un mix di tutte queste cose. Mi accetto come sono. Ah beh, certo, certamente, certamente. Pena, adesso Sabrina, parliamo un po' con tanti, con tutte e due, però cominciamo ora per Cavalleria, il mese di marzo e il mese della donna, parliamo un po' da Sabrina. Siamo curiosi, guarda, siamo uomini qua, vogliamo sapere i tuoi progetti sportivi, chiaramente. Allora, più che sportivi, i miei progetti... Oh, di vita, di vita professionale, eh? Certo, immagino. Certo. Beh, io mi auguro di continuare ancora per un bel po' in queste collaborazioni, in questi corsi, comunque nella formazione per quanto riguarda gli allenatori in generale, più che altro continuare a lavorare per stimolare a un cambiamento le persone che affrontano l'impegno di lavorare con i bambini, con i ragazzi, con la gioventù. Benissimo, bene. un bel progetto, mi sembra, no? Poi sei giovane, tanto tempo davanti. Beh, giovane relativamente. Figurati. Davide, anche a te questa domanda, dica che la faccia, i tuoi progetti futuri, al di là della Pre-Nike Premier Cup? Mi ha fregato, mi è passato davanti. La risposta è simile alla sua. Ah, sì? Sì, sì, sì. Va bene. Sì, nel senso che il mio piacere veramente è vedere crescere il movimento calcistico e non può altro che crescere con la formazione degli allenatori, con la formazione personale, di tutte le persone che stanno nel contenitore calcio. Proprio mi piace tanto fare serate con gli allenatori di Corso Vifaci, per me è stato un arricchimento culturale e umano. Certo, certo. Insomma, quindi mi piace proprio tanto condividere una cosa che amo con le persone che hanno voglia di migliorare perché so che poi a cascata i nostri ragazzi insomma ne beneficeranno alla stragrande. Benissimo. Mi fa piacere che hai citato anche un po' il Corso Vifaci, che è stato, ricordiamo, il primo Corso Vifaci in Liguria organizzato al settore steco, ma delegato sul territorio al Genoa CFC nel 1893, ci tengo a dirlo, perché è stato, devo dire, io sono stato anche il suo padre coppa docente o perlomeno ho partecipato, è stato un corso molto ben organizzato, ho avuto un gran successo, ho organizzato molto bene, quindi mi permetto di fare i complimenti al Genoa per come ha condotto questo primo corso che è il primo corso in Liguria e di questo che è anche diplomato dei bravissimi allenatori. Allora, questa è stata un'esperienza bellissima, nuova nel suo genere perché come hai detto è stato un corso pilota, in Italia le prime esperienze le hanno fatte la Juventus, l'Atalanta e il Padova l'anno scorso, quindi per me è stato un motivo d'orgoglio e di grande gratificazione il fatto che la FGC ci abbia insegnato di questa incombenza, diciamo così, per poter istruire dei giovani tecnici secondo quelle che sono le metodologie e la nostra linea didattica che usiamo abitualmente nel settore giovanile. per quanto riguarda eventuali cambiamenti essendo stata la prima esperienza sicuramente si può sempre migliorare ci sono delle condizioni soprattutto strutturali la sala per esempio per le lezioni di didattica teoriche che può essere sicuramente migliorata a livello proprio di ampiezza però complessivamente direi che siamo soddisfatti le paure iniziali via via sono state lasciate da parte ed è prevalso credo poi la socializzazione l'ambientamento generale di tutti i tecnici di tutti gli allievi con un corpo docenti importantissimo perché sicuramente il livello dei docenti è forse l'aspetto più importante di questo corso. Con il presidente Ulivieri a Coverciano si è concordato di stabilire di costituire una una commissione che secondo loro in Italia può portare avanti questi corsi UFAC grassroots soprattutto per settore giovanile come l'intendimento dell'Associazione Italiana Allenatori e questa commissione dovrà stabilire i vari le varie secondo anche delle varie richieste dovrà stabilire i luoghi dove nelle varie regioni i luoghi le province dove fare i prossimi corsi soprattutto per l'anno in corso 2015 io credo che Liguria ci sarà la possibilità nella seconda parte dell'annata di poterlo fare in una provincia diversa da Genova che può essere Savona può essere La Spezia o Imperia vediamo un po' probabile a Ponente però manca ancora la conferma sicuramente daremo continuità come ci ha suggerito Olivieri come ci ha suggerito Acconce Paolo Piani da Coverciano a quello che è stato il corso appena terminato Per quanto riguarda quella che sono le prospettive future è questo sicuramente la predisposizione del corpo docenti a proseguire questa linea didattica è la cosa più positiva che è emersa da questi due tre mesi di corso è anche la capacità e l'adattamento di tutti gli allievi anche alle difficoltà iniziali dovuti nostro malgrado all'alluvione e ad altre situazioni spiacevoli che ci sono state sulla Liguria nel periodo tra ottobre e novembre io credo che si potrà ripetere e credo che comunque le risultanze migliori debbano arrivare dagli allievi da chi ha partecipato al corso se queste risultanze si confermano positive come sembra io credo che la FGC non avrà difficoltà a confermarlo e a ribadirlo in un'altra provincia ha visto questi ragazzi molto lontani da quello che era il discorso soprattutto della mia materia impegnarsi molto ho apprezzato il loro spirito di abnegazione il loro spirito di sacrificio nello stare attenti a queste lezioni che non sono state per niente facili e il risultato decisamente è stato positivo è un contributo che ritengo fondamentale in quanto noi crediamo in un allenamento integrato dove in un'unica esercitazione si tocchino più elementi che possono essere quello tecnico tattico quello legato di più alla mia materia quindi dal punto di vista organico ma anche dal punto di vista emotivo e cognitivo riferito al soggetto a 360 gradi e quindi non può essere che fondamentale l'apporto di uno psicomotricista o di comunque un preparatore atletico che nel settore giovanile abbia la peculiarità del lavoro sulla coordinazione che porti anche ad un lavoro sulle capacità condizionali come la forza la resistenza la velocità in maniera più precisa soprattutto in forma in una forma preventiva e funzionale a quello che sarà il giocatore e la carriera del giocatore stesso spero che in questo corso i ragazzi che hanno così brillantemente superato gli esami e abbiano avuto questa capacità di mettere in critica tutte le nozioni che gli sono state date durante il corso la nostra speranza di Mr. Brunello in primis e mia è stata proprio questa quella di fornire delle informazioni e fornire un modello che è proprio riferito all'apprendimento integrato tale che loro possano metterlo in critica rispetto a quelle che sono state le loro esperienze passate da giocatore di calcio ai loro studi al loro background culturale ma che nello stesso tempo abbiano la possibilità di innovarsi e di rinnovarsi eventualmente durante la loro carriera da nuovi mister di calcio del settore giovanile Beh, innanzitutto il portiere del settore giovanile vive il sogno di arrivare nei professionisti sicuramente allenando da tanti anni i portieri della primavera quello che ovviamente possiamo vedere è la condivisione a volte degli spazi di gioco fra i ragazzi che arrivano in fondo al percorso giovanile cioè i ragazzi della primavera con quelli della prima squadra quindi è come toccare con mano il sogno nel cassetto sicuramente per arrivare nei professionisti è molto importante lo spirito del sacrificio questi ragazzi hanno ovviamente una grande forza di volontà perché altrimenti oltre alle doti e le qualità e la base atletica che sicuramente devono avere c'è ovviamente bisogno di una spinta in più che è quella della determinazione il percorso del portiere è un percorso lungo e irto di insidie perché perché chiaramente il portiere affronta una situazione particolarmente difficile che è quella di migliorare tecnicamente sicuramente giorno dopo giorno ma la sua fisicità cambia di anno in anno noi vediamo portieri che vengono al campo fino a maggio e hanno una statura si ripresentano a luglio e sono cresciuti di 10 centimetri quindi il rapporto col proprio corpo soprattutto nelle leve dei più giovani è a volte difficoltoso perché gli aspetti coordinativi vengono messi in discussione di anno in anno che cosa si deve aspettare un allenatore che affronta il percorso insieme al proprio allievo si deve aspettare un miglioramento quotidiano passando anche da momenti di appannamento di questi miglioramenti quindi non diamo per scontato e non diamo sentenze definitive se vediamo un ragazzo che dai progressi passa a dei regressi aspettiamolo sono molto contento di aver partecipato al corso Uefa C che si è svolto qui a Genova soprattutto perché è un motivo di crescita anche per chi da tanti anni come me svolge questa attività è un modo per tenersi aggiornati è un modo per confrontarci è un modo per rimanere come si dice sul pezzo è un modo anche per avere un un viaggio nel mondo di chi oggi vuole affrontare questo questo percorso soprattutto spesso e volentieri in società dilettantistiche quindi noi attingiamo lavorando nei professionisti anche a piccoli stratagemi che gli allenatori delle giovanili soprattutto nelle squadre dilettanti dove il tempo è tiranno riescono comunque a portare avanti con buoni frutti i propri risultati i propri obiettivi quindi grazie grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo corso di sicuro all'inizio è stata una nuova esperienza perché nessuno di noi aveva se era mai cimentato un'organizzazione di corsi quindi è stata un'esperienza interessante è stato bello poter diciamo scegliere un parco docenti così interessante e poi ci sono state quelle diciamo problematiche o meglio quelle situazioni organizzative da smistare a livello di distribuzione del monte orario cercare di venire incontro sia ai docenti sia ai corsisti che giustamente venivano da lavoro però direi che per la disponibilità dei docenti e per la buona volontà dei stessi poi alla fine si è incastrato tutto bene ecco per cui meno problematiche del previsto forse qualche problematica all'inizio è stata debitabile alle alerte meteo al periodo in cui iniziava il corso che era il post alluvione di Genova però risolta questa problematica direi che è tutto filato abbastanza liscio credo di sì nel senso che l'esperienza è stata di sicuro un minimo stancante a livello di Monteore però è stata interessante arricchito meno lo specifico ma credo tutti noi per cui è un'esperienza che replicherei volentieri e credo che tutto lo staff organizzativo replicherebbe volentieri perché abbiamo incontrato innanzitutto persone molto disponibili molto educate parlo dei corsisti altrettanto educati e disponibili sono stati anche i docenti molto professionali alla mano per cui direi quasi certamente sì ma è stata un'esperienza appunto che ci ha di sicuro arricchiti a livello non solo calcistico e di esperienza per quello che è il mio lato organizzativo ma è stato piacevole il confronto con persone che operano sui campi tutti i giorni con persone che sono vicini al mondo del settore giovanile e che quindi possono di sicuro trasmetterci qualcosa e arricchirci sotto più punti di vista e portarci le loro esperienze in mezzo ai bambini che credono siano la parte più preziosa del calcio sia il giorno d'oggi che per il futuro siamo arrivati in chiusura ahimè mi dispiace perché quando si parla di calcio con persone che chiamano il calcio è bello parlare di calcio ma purtroppo il tempo anche qui a Tiranno quindi vi ringrazio e speriamo tutti tutti e due indifferentemente Davide Brunello ti ringrazio ricordo che sono tutti che sei un attore giovanissima nazionale del Genuo che hai vinto un prestigioso trofeo recentemente ma al di là di quello ricordiamo che sei un grande allenatore di settore giovanile ti posso definire così? Ci credo mi hai convinto bene grazie a voi tutti quanti dottoressa e dottorina Sabrina grazie di essere venuta con noi ti auguro di partecipare ancora a tantissime cose sicuramente hai le qualità e i numeri per farlo quindi un bocca al lupo anche a te grazie di essere venuta di essere stata con lei questa sera grazie a voi grazie un salutone a tutti buonasera a tutti salutiamo ringraziamo per chi ci ha ascoltato chi ci ha visto e l'appuntamento come sempre per la prossima settimana su Liguria Sportiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!